Il suo fare sospetto e il fiuto dei cani antidroga hanno messo nei guai un 25enne nigeriano appena sceso dal treno in stazione a Padova. Sequestrati due chili e mezzo di marijuana che l'uomo, con molto probabilità un corriere, trasportava da Roma. Sceso sul binario ha subito notato i militari della finanza con i cani antidroga e ha cercato repentinamente una via di fuga. Peccato per lui che oltre agli uomini in divisa ci fossero anche agenti in borghese a cui non è sfuggito l'atteggiamento circospetto del 25enne. Dopo un'attenta perquisizione è stato trovato un involucro di cellophane contenente la droga. L'uomo è stato arrestato e portato al carcere due palazzi.